Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video Che è successo ieri con Shiba Inu? Abbiamo registrato un più 37% perché Robin Hood finalmente ha deciso di listare Shiba Inu sul proprio exchange E in questo video voglio parlarvi soprattutto di quale potrebbe essere il prossimo target di prezzo Voglio anche aggiornarvi per quanto riguarda il metaverso di Shiba Inu perché è iniziato una fase importante soprattutto per chi ha fatto, ha partecipato al lock degli Shiboshis e dei Lish Adesso però iniziamo subito però prima di iniziare come al solito per supportarmi e sopportarmi ormai lasciate un bel mi piace E se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che è pubblico iscrivetevi al canale Per quanto riguarda la situazione nelle ultime 24 ore tra i top gainers su CoinMarketCap vediamo MetaRuffi, Near Protocol al secondo posto e al terzo posto con un più di 18% Shiba Inu Bitcoin finalmente è recuperato abbiamo visto un bounce ieri anche se sono usciti i CPI numbers in America e ci sono state notizie negative Il prezzo delle criptovalute ha reagito abbastanza bene soprattutto le altcoins e tra poco ne parliamo Bitcoin in questo momento che sto registrando è sui 40.107 è riuscito a riprendersi dopo il down del prezzo che è arrivato fino ai 39.000 Ethereum si è mantenuto abbastanza stabile rispetto a Bitcoin in questo momento siamo sui 3.056 dollari Soprattutto ragazzi Shiba Inu ha registrato uno spike incredibile in questo momento che sto registrando è sui 0.26 ma voglio mostrarvelo meglio sul grafico Questo qui è il grafico delle 4 ore ma se andiamo sul grafico orario vediamo che è successo super giù a partire dalle 13 ore Mezzogiorno ore italiane perché io sono un'ora avanti rispetto all'Italia Comunque è successo qualcosa di incredibile in pratica Shiba Inu è stata listata su Robinhood E ormai chi mi segue sa benissimo che sono mesi e mesi che ve ne parlo E' importante questa traduzione perché su Robinhood che per chi non lo sapesse è un exchange molto utilizzato in America che permette di acquistare e vendere anche azioni Oltre che criptovalute Era da tempo che se ne parlava per quanto riguarda Shiba Inu e finalmente questa criptovaluta è stata listata E abbiamo visto uno spike incredibile del prezzo Queste qui in rosso che vedete sono delle resistenze che io ho segnato in precedenza E chi mi segue sa di cosa sto parlando perché sto seguendo il prezzo in questo modo La media ha 12 periodi questa qui gialla sta fungendo da supporto e questo è positivissimo Soprattutto la prossima resistenza da rompere è quella degli 0,27 Ieri abbiamo rotto anche quella degli 0,29 per poi essere rigettati Cioè il prezzo una volta toccata questa resistenza è risceso Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto che potrebbe esserci ancora una piccola crescita verso l'alto Perché visto che Shiba Inu è stata listata su Robinhood come un exchange utilizzato da tantissime persone Mi aspetto che ci sia ancora di più una massa d'option di questo token che verrà comprato, scambiato su questo exchange E quindi per questo il prezzo potrebbe subire altre variazioni Però attenzione non sono un consulente finanziario, assolutamente no Se prendiamo ad esempio la candela, con questo voglio dirvi che non dovete investire perché ve lo dico io Comunque se prendiamo la candela di ieri e registriamo la percentuale Soprattutto vediamo uno spike fino al 38% ragazzi, più 38% in un giorno Immaginate chi era in leva su Shiba Inu, chi aveva posizione aperta su Shiba Inu E lo sapete che vi ho detto in questi giorni, chi mi segue sa dove ho acquistato Shiba Inu perché mi aspettavo un bounce Quindi ragazzi è importante vedete perché nel mondo delle criptovalute possono succedere cose incredibili Come in questo caso con un più 40% quasi in pochissime ore E se siete in leva esposti potete fare dei guadagni assurdi Però attenzione come al solito se sapete utilizzare la leva Perché se non sapete utilizzare i derivati e se non sapete fare trading perdete soldi In questi mesi vi ho disegnato questo triangolo simmetrico e siamo sempre stati in questo range Però l'abbiamo rotto l'11 aprile quando abbiamo visto quel dump incredibile delle criptovalute di bitcoin nello specifico Però siamo subito rientrati e siamo sempre in questo triangolo Quindi per adesso è ancora valido Mi aspetto che il prezzo continui a stringersi qui dentro per poi romperò del tutto Come al solito ragazzi io vi aggiorno sempre su questo canale Quindi se non siete iscritti per non perdervi nulla iscrivetevi assolutamente Però passiamo alle notizie più importanti perché anche il metaverso di Shiba Inu E' passato la fase 1 che sarebbe il bid event Perché sono 3 giorni in cui chi ha bloccato i leash oppure gli shiboshis Può partecipare all'asta E la migliore ovviamente la migliore offerta vince Quindi è importante tenere a mente questi passaggi Perché il primo stage che c'è adesso è il bid event Cioè chi ha bloccato i leash e gli shiboshis può partecipare all'asta Il secondo è l'holder event Poi il terzo c'è il public sale Il quarto è il release dove verrà lanciato poi il metaverso di Shiba Inu Quindi tutti questi catalizzatori secondo me ve lo dico ormai da mesi, mesi e mesi Chi mi segue lo sa benissimo Secondo me permetteranno una crescita incredibile del prezzo di Shiba Inu E ne vedremo sicuramente delle belle Detto questo come viene condiviso anche da Watcher Guru Robinhood finalmente ha listato Shiba Inu E il prezzo è andato davvero incredibile e esploso Oltre a listare Shiba Inu hanno anche listato Solana, Polygon, Matic e Compound Quindi ragazzi altre cripto ovviamente E c'è anche un contest dove c'è possibilità di vincere 100.000 dollari Basta condividere questo post mettendo l'hashtag RobinhoodCripto Includere anche il vostro username di Twitter E potreste vincere questi soldi Ovviamente questo è un incentivo da parte di Robinhood Per far conoscere, per far sapere al mondo Che hanno listato finalmente Shiba Inu, Solana eccetera Però ripeto ragazzi questa è una news incredibile Infatti vedere un più 38% in un giorno è ripeto assurdo Soprattutto vediamo anche che stamattina le azioni di Robinhood sono cresciute del 3% ragazzi E 3% nel mercato azionario non è per niente poco anzi è tantissimo Dopo aver listato ovviamente Shiba Inu Quindi è stato, questo listing è stata una cosa win to win Sia per l'exchange stesso ovviamente ma anche per Shiba Inu Era da tempo che aspettavamo questo Finalmente è successo e ragazzi bastava essere solo pazienti Lo ricordo ormai da mesi e ne vedremo sicuramente delle belle Soprattutto per chi è riuscito ad accumulare quando i prezzi erano molto più bassi rispetto ad adesso Il metaverso sta per essere lanciato C'è la fase di bid e se andate sulla pagina ufficiale twitter di Shiba Inu Vedrete questo post molto importante in cui viene spiegato tutto quello che verrà fatto Ah e cosa che non vi ho detto che volevo dirvi è che il token SHIB verrà utilizzato per aggiungere immagini, loghi ai lotti di terreno E ci sarà possibilità anche di cambiare queste immagini ogni volta che noi vogliamo E soprattutto questa funzione sarà un burn interno del token SHIB Cioè ogni qualvolta qualcuno cambia le immagini, cambia il logo e utilizzerà SHIB Una piccola parte di questo token verrà bruciato E questo è importantissimo perché sappiamo benissimo che la circulating supply di Shiba Inu è enorme E per far sì, per vedere realmente un miglioramento nella circulating supply Per vedere il prezzo può raggiungere dei livelli importanti Bisogna bruciare SHIB il più possibile In questo modo verrà fatto tramite il metaverso E' un catalizzatore anche questo fondamentale per vedere il prezzo di Shiba Inu esplodere in futuro Per quanto riguarda il prezzo di Shiba Inu anche in questo caso viene segnalato questo triangolo simmetrico Quindi pian piano lo stiamo per rompere Se riuscissimo a romperlo in maniera bullish cioè rialzista ne vedremo delle belle Però attenzione per quanto riguarda il Bitcoin Fear and Greed Index siamo al numero 25 ragazzi Siamo sempre scendendo ovviamente Ieri eravamo al numero 20 oggi siamo al numero 25 quindi ci stiamo riprendendo anche se siamo sempre in Extreme Fear Questo è positivo da un lato perché i prezzi sono scontati Infatti non appena siamo arrivati in Extreme Fear il prezzo di Bitcoin è arrivato sui 39.000 dollari C'è stato un rimbalzo importante e ve lo mostro anche sul grafico perché l'11 aprile con quest'ombra qui abbiamo raggiunto 39.167 dollari E poi il prezzo ha subito un rimbalzo importante in questo momento che sto registrando il prezzo è sui 40.132 Quindi che mi aspetto? Mi aspetto, spero anzi di raggiungere la prossima esistenza di 44.000 dollari E se dovessimo rompere ancora più in basso questo canale che ho disegnato qui Potrebbe essere molto molto negativo perché raggiungeremmo supporti precedenti di 35.000-36.000 dollari Però ripeto ragazzi mi aspetto una ripresa per le criptovalute Lo stesso per CRO perché ho un trade aperto su CRO da un parecchio tempo Quindi credo tanto in Bitcoin e le cripto che si riprendano Dopo questi dump così potenti ci si aspetta sempre un pump altrettanto importante Detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video Spero tanto che vi sia piaciuto Cosa non meno importante date un'occhiata anche ai bonus che sono qui in basso in descrizione Come quello di Young Platform che vi da 10€ E soprattutto c'è una sezione Academy che permette di studiare cosa è la blockchain Cosa sono le criptovalute, la cripto economia, l'economia in modo semplice, il trading Visto che molti me lo chiedete Vi registrate tramite il mio link, c'è l'Academy in basso a destra E avete anche poi 10€ di bonus a un deposito minimo di 50€ Ci sono anche altri bonus come quello di Bybit fino a 1020$ Che utilizzo per fare trading, crypto.com, Verse, Hype, c'è di tutto Dategli un'occhiata, è tutto qui in basso in descrizione Noi ci vediamo domani con la speranza che il prezzo di Shiba Ino continui a salire Se volete che sia così lasciate un mi piace a questo video E se non siete iscritti per rimanere aggiornati Iscrivetevi al canale e non perdervi nulla Noi ci vediamo domani, ciao a tutti ragazzi